Io mi sto già organizzando per il post Dani vieni con me dai A chi va? Ci sta? Ci sta Ho portato un amico Non lo vedo dov'è? E' un mezzo amico Ah eccolo Il trucco di io Fra 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 In summary, ears ringing, jaw fractured, 3 ribs cracked, 4 broken, diaphragm hemorrhaging, physical recovery 6 weeks, false psychological recovery 6 months. Cazzo, bella, eeeh, questo non serviva. Bell flash campione, si è suicidato. Si è suicidato comunque il flash. Vendemente. Eh, buono. Eeeh, boh, stavano parlando diiii... Vabbè, porco. Che support di merda che mi ritrovo. Aaaaah, adesso il corpo del support che è morto . No, open mid. Tipo... Vabbè. Tipo 0, no. Ah, è 5-0 quel cazzo di... di tassa di me vita. Fra l'ha scritto, Fra. Open mid. Is fucking imperdibile. Oh Cristo. Ah, chi che vuoi? Tolle. Bella starà, anche, molto veloce. Fa senso. Cogli questo. Fra, ma chi ti ha insegnato? Fra, Fra, questo dopo te lo insegno. Come scusa Dani? Basta. Dani come è? Che mi serviva che... Cioè, poter comunicare con il mio odio... Fra, questa dopo te lo insegno. Ma ma Dani che... Che perfezione nel time proprio. Mamma mia. E' una professione! 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 Ma potre cazzo di vita? Eh, 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 eh. Eh... Eh, allora... Oh giro è tutto un cane. Ecco... no che cazzo è bella vico che dodger incredibili ma sono 9 e ancora non lascio dai che sei vivo dai che sei il vivo bravo era un predict per la E tu non capisci se guardi bene avevi preso tutte e due io? no questa Katarina Katamina ho visto qualcuno partire alla riscossa io gravo lui ma si ma si ma no no fra sei morto fra sei morto e no fii 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 bello cattivo bella un yep that's me you're probably wondering how I ended up in this situation mi hanno inflato mi hanno inflato wiii c'è il ver 3 e adesso l'incredibile 2 andiamo di prendersi un'icrede nerdinga limpid donna zui fii 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 rii fii fiii hm Cioè, è 10 U, è 10 ZERO? Eeeh... E' 10 ZERO, quel cazzo di Graves, non ho parole. A 12 minuti, 10 ZERO? Eeeh... Eeeh... BARR... Eeeh... Barretto. Non amore, io non ci voglio credere. Ma che cazzo di trappoline sono quelle? LOL. Sì dai. Non ho un altro item da comprare per... No, 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 rimane così. ULTA! Ok, c'ho un mille di gold in più. LOL. Oh Cristo! Cosa? OH CRISTO! E' stato bello ragazzi. Mi ha fatto 1235 danni. No, p***o io. I danni. Eeeh... 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 Quante cazzo di volte puoi andare? Aspai, aspai... Vai per il mio Torda. прест 2'ved Oh, ah ah... Oh! Sevento di post! Eeeh... Sono cosa? Grazie Sono morti tutti di nuovo No, potremmo un po' di vincerlo Oh Cristo Ci sta C'erano tre persone C'è un po' di vincerlo Ah, che spade per un mio E' morto E' morto E' morto Dove sei, Dani? Fra, sono fortissimo, cazzo Wow, Fra, sei fortissimo Fra, me l'ha schivata Non gli posso dire niente Aiuto, ho paura Eh, io sì Mi shotta, figa Mi dice, hey, boom No Arrivano a farmi shottare Vado a farmi shottare, raga Rauti Agli ucciti tutti Ho visto? Più, più, più C'è qualcuno di noi che provava Ma che sto ribottando Non gli faccio neanche un cazzo di danno, raga Che palle Non lo vedo Ah, raga, sto combattendo contro i miei demoni Aiuto Guarda, che palle Basta, sono destinato alla morte Let's go Dai, Dani Vinci la partita Per noi Se usciamo devo dare basta Se non è che c'è tanto Dai, Dani Questa l'ammazza Bravo No, adesso l'ammazzano Non è no Dai, non Ok Mi si si Ragazzi, sono Dani Sono 19 kg, raga Sapo Ma la tua ulti Stacca con L'ender dragon Sì, l'ender dragon Aspetta, ho sbagliato il gioco L'elder Boh, non penso Ma che cosa Stragazzo vuol dire Raga, raga Attenzione Perché hai tipizzato Piè Che tipi è Lula Perché sì, raga Raga, tranquilli Io allora È la tattica Tranquilli È giusto Anche la mia è tattica, raga Ma cosa cazzo sta succedendo Lula È così, arrivava Così prendo prima gli item Ah, ci sta Ovviamente Bella sta ulti Questa ulti, boys Tutti di più Per salvare la base Raga, poco jungle diff No Che dura Raga, comunque Non sto scherzando Tutte le lanket che perdo Per questo Cosa Jungle diff Bellissimo come Io sono riuscito a fare Più danni di Amumu Dalli E Kate Sei un assassino Non sono un assassino Sono un sapo Oh